Le conseguenze del violento impatto non gli hanno lasciato scampo. È deceduto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo il 76enne Giuseppe Antonio Cisternino, coinvolto nel terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 45 bis. La Fiat Panda con l'anziano alla guida si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta che a seguito della collisione ha preso fuoco. Tre dei quattro occupanti del mezzo, fra i quali il conducente, sono rimasti feriti. Le cause dello scontro non sono state ancora accertate. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Manfredonia e dal presidio di San Giovanni Rotondo, hanno domato il rogo ed estratto dalle lamiere dei veicoli, ormai accartocciati, le persone coinvolte nello scontro. Sul posto anche le forze dell'ordine per gestire il traffico e svolgere i rilievi del caso. Il 76enne non è sopravvissuto ai traumi rimediati. Tutti i tentativi di salvarlo da parte dei medici si sono rivelati infruttuosi. La strada provinciale 45 bis, arteria che collega Foggia ai centri di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, continua a mietere vittime.